Ello ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui in un nuovo video per l'ottava generazione. Ringrazio WitherDeltaZZ che mi ha mandato, come al solito su Instagram, tutti i leak del momento, che adesso vi andrò a leggere subitissimo. 1. Il gioco sarà completamente in 3D, cosa anche abbastanza ovvia, visto che anche gli scorsi giochi Pokémon erano abbastanza in 3D. Cioè erano in 3D, sì, certo, è arrivato in ritardo il 3D, però vabbè, è arrivato, quindi il gioco sarà in 3D, almeno quello. 2. Avrà una grafica simile a Xenowild o a Breath of the Wild, cosa davvero interessante perché sinceramente ci avevo pensato anche io, e ne sono felice, se sarà così, se questo leak si avvererà, ne sarò molto felice. Durante le battaglie i Pokémon saranno animati, ma animati davvero, non animati come lo schifo, che è la settima generazione e anche la sesta, quindi belli gagliardi, tipo Pokémon Torne, forse non a quelli belli, però animati per bene. Le Ucci introdotti in Usul, Ultrasoul, Ultraluna, ovviamente, erano originalmente pensate per Switch, cosa davvero interessante. E niente ragazzi, questi erano i leak di oggi, ne sono abbastanza pochi, però credo che siano molto interessanti, soprattutto quello della grafica simile a Breath of the Wild, e del fatto che i Pokémon saranno animati in battaglia, che sono due cose che vorrei vedere davvero nei giochi di ottava generazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è fatto così vi lasciate lasciare anche un commento, facendomi sapere cosa ne pensate, ecco, un bel like, condivisione, e se non vi iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!